Il teatro per ragazzi d'autore alla tosse dove arriva il malafiato. A firmare il testo interamente in rima è Roberto Piumini. Ci presenta lo spettacolo Lorenzo Orsini. Di briganti e pugnali, di donne, baci, di streghe e vari incantamenti, qui si dice, del conte narco imolese che aveva nella bocca disgraziata qualcosa di maligno e di scortese e si racconta del suo lungo viaggio verso Arnolfo, gran mago antico, di come un poco gli giovò il coraggio e un po' l'astuzia di un amico blabante. All'auditorio Montale del Teatro Carlo Felice di Genova debutta martedì mattina con doppio spettacolo alle 9.30 e alle 11 il malafiato, atto unico in versi di Roberto Piumini, un'ora circa la durata, la musica di Andrea Basevi, la locandina su disegno di Lele Luzzati, con i giovani cantori dell'Accademia Vocale di Genova diretti da Roberta Paraninfo, la regia di Patrizia Ercole, le scene di Valentina Persico. Repliche ancora giovedì, triplo spettacolo, due la mattina, sempre 9.30 e 11, poi la sera alle 21, venerdì mattina due spettacoli, sabato pomeriggio alle 16 e alle 18. che io ti voglio dare... a a a a a a a a a